Ciao tutti sono Gianni25 e qui ci troviamo su Day dell'Olimpo Nuovo episodio che da una settimana che non facevo circa quindi ho deciso di fare un altro episodio La sera faremo la live su Fortnite e domani su Minecraft di mattina domani Per chiunque vuole vedere la live di Minecraft di mattina E se è domenica la decidete voi Non è ancora decidere Lo che volete Lo faremo Ok Vediamo le risorse qua Un sacco di oro Va bene Qua c'è una notizia ma non le guardiamo perché tanto sono inutili La cosa è che non ho già dei attacchi Ok ci hanno attaccato Allora io devo fare attacco qua Prima gli attacchi poi potenzialmente come al solito Allora direi di attaccare Triton 35 Vabbè ci è sfondato Ok Poi dobbiamo fare Dove siamo normale così Non ci risultate ne troppo difficili È troppo facile anche se è di solito In questi momenti Potrebbe essere troppo difficile Tre templi da distruggere Beh se noi attacchiamo di qua dovremmo riuscire a passare dentro Da qua Perfetto Direto tre Ok No abbiamo meglio eh Perfetto Perfetto Vabbè Poseidone vai Distruggi Invece Zeus Andiamo con questo colpo E lui invece la rispettiamo Per sfondare un po' là in mezzo Eccolo lì la carica Tipo la furilegge E adesso facciamo l'onda Fulminata E carica Attacca Solo con gli dèi Fine Stiamo ancora Vediamo Sono livelli a 12 l'esperienza Quindi non Non male Come ha messo il villaggio questo? Qui ci sono due templi Quindi con Diciamo che con Zeus Le facciamo buttate tutti Però tutti gli uomini Si stanno sbricando Per colpire lì eh Questo non è buono Questa è la fulminata Che muore un qualcuno Lì Anche Evitiamolo con gli altri dèi Perché è meglio puntare così Aspetta Lì Perfetto Mi sa che questo Ho sbagliato Ad attaccare Al presentimento Troppi uomini Veramente troppi Solo posidone Ma mi sa che Se la stava cavando Malissimo Se sono troppi Guarda quanti Dai dammi Il porto dell'acqua Niente vabbè Mi ho perso Beh può capitare Di provare Allora dai Facciamo un altro attacco Ne facciamo altri due E poi direi di potenziale Aspetta I templi sono qua in mezzo Però noi dobbiamo distruggere I Eserciti Perché se no Non è Non andiamo avanti Attacchiamo di quella Andiamo con questo Questo andiamo di sfondata No andiamo con questo Perfetto Invece Zeus E butta la fulmine Nel mezzo Poi c'è procedione Che non sa l'abilità Perfetto Ultimo in mezzo Ares Vittoria Perfetto Va bene Un altro attacco E basta Non male Facciamo un po' di attacchi E poi un po' di potenziamenti Che significa che il video Non duri duri Esageramente troppo Però Sembra che stia andando bene Allora Aspetta Qui sono i tre templi In mezzo Dobbiamo attaccare In modo da andare in mezzo Beh io direi di attaccare Da questa parte Che se no Non ce la facciamo Usa l'acqua Te usa La fulmine qua sopra Madonna che fulminate Le rotole Perfetto Usa meno da Danneggiamo l'intorno Perché se no Si va troppo Poi andiamo di acqua Qua in mezzo Perfetto E la fulmine La buttiamo qua in mezzo Così si trugge un po' di edificio Poi questo andiamo di carica Qua Perfetto Giù l'edificio Beh Dai va bene Quindi qua siamo passati di livello Siamo passati di livello Ok 4000 più 20 Vabbè L'edificio Siamo sempre lì Nella squadra Siamo sempre 3 No 2 9 12 13 Va bene Ok Allora Intanto Direi di potenzi Di Di potenziarsi un po' Perché se si attaccano Magari Ci sfondano La base L'abbiamo abbastanza Appliata Con le espansioni Prima gli eroi Però Aspetta Non di qua Qua dentro Perfetto Hermes c'era O l'hanno aggiunto adesso Non lo so Se un eroe Ha aggiunto adesso Noi abbiamo questi 3 Perché per il prossimo Sarà il livello 20 Per prenderlo Devo prendere Afrodite qua La prossima Sbloccare E lo sblocco in ordine Non ho preferenze Qua Sono tutti 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 Mi sa che non lo potenziamo Tutto Però almeno I principali Ce la facciamo Perfetto A mille è rimasto Quindi queste qua Non riesce a potenziarle Però abbiamo Positorno al 19 E Arrest al 17 Quindi buono Vabbè abbiamo anche Deuce al 15 Però va bene Allora Adesso che Qua abbiamo tutto Al 3 Perfetto Quindi possiamo Passare ai livelli 4 Tempo di Zeus Livello 4 Più vita E livello 4 Di qua Con questo qua Che diventa un po' più Sul bronzo Infatti c'è la potenza Diventa Sì vabbè Va avanti Di Di Potenza Di manierali Le bronzo Va Poi va Argento Poi va oro Intanto è un po' bronzo Quindi va bene Poi Le casettine Ok Ci sono ampliate Adesso che sono Due casettine Appiccicate Praticamente Facciamo Questa cosa Con Il tempio Di Posidone Però Il tempio di posidone Possiamo potenzare Solo il primo Perché Non abbiamo abbastanza Legno Abbastanza Pietra Non legno Non è mica Boom Beach Allora Va bene Dai Sono arrivato A livello 13 L'esperienza Ho potenziato Un po' Di cose Anche Dei Gli ho fatto Gli attacchi Buoni A parte uno Che abbiamo perso Va bene Io ragazzi Vi saluto Ci vediamo Stasera In live Su fortnite Se volete Entrare Nella squadra Potete entrare Perché Siamo Due su cento Quindi Sono 93 spazi Solo gioca con noi Come Manu Tanto Questo Ragazzi Vi invito Lasciano Un like Un commento Condivido In giro Iscrivetevi Alla Se iscritti E ci vediamo Alla prossima Ciao a tutti